ciao a tutti oggi prepareremo la pasta con le zucchina lunga il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa gli ingredienti sono zucchina lunga tagliata a cubetti patate tagliata a cubetti cipolla polpa di pomodoro olio evo dado vegetale bimbi basilico pasta mista corta acqua tiepida sale e pepe diamo il via la ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla ed azioniamo il bimbi per 33 secondi a velocità 7 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere l'olio ed azionare il bimbi per 4 minuti 120 gradi velocità 3 aggiungere le patate la zucchina la polpa di pomodoro il dado il sale il pepe il basilico e l'acqua ed azioniamo il bimbi per 20 minuti 100 gradi antiorario velocità soft aggiungere la pasta mescolare con la spatola e cuocere per il tempo indicato sulla confezione nel nostro caso 8 minuti 100 gradi antiorario velocità soft la pasta è cotta impiattare e servire basta con la zucchina lunga grazie e alla prossima ricetta grazie Grazie a tutti.